La soppressione del reddito di cittadinanza è uno dei temi più scottanti del momento. Il governo Meloni ha stabilito nuove regole, mentre l'opposizione continua a battersi per ripristinarlo ed anche tra i cittadini è in essere la stessa rigida divisione. Cosa ne pensi del reddito di cittadinanza? Che ne so. Non lo prendo, io il reddito non lo so. Cosa ne pensi? Ci vorrebbe il lavoro nei comuni, specialmente. A Cosenza dove è il lavoro? A Cassano e Ioni dove è il lavoro? Cosa ne penso? Penso sia giusto, ma spesso in Italia succede che con gli strumenti giusti diventa un abuso. Non sono né favorevole né contrario, sono favorevole per coloro che non riescono a trovare lavoro. Il reddito di cittadinanza cosa ne penso? Ne penso che è un ottimo strumento, soprattutto di tenuta sociale, perché io penso che se non ci fosse stato in questo periodo la possibilità di poter usufruire di questo strumento molte famiglie, molte persone si sarebbero trovate in serissime difficoltà. Quindi io ritengo che principalmente, diciamo come razio, come principio sia un ottimo strumento. Però chiaramente andrebbe anche in un certo senso organizzato meglio, anche al fine di evitare chi del reddito di cittadinanza poi dopo ne ha fatto una sorta di strumento per favorire il lavoro in nero. Quindi il mio punto di vista sarebbe quello di incentivare le aziende, di incentivare gli enti pubblici ad assumere persone, diciamo, per settori del reddito di cittadinanza, poiché se per settori come tali vuol dire che almeno in teoria dovrebbero avere i requisiti della necessità, quindi dare degli incentivi a aziende e enti pubblici e nel contempo voglio dire potenziare i controlli perché spesso e volentieri può capitare che per settori del reddito di cittadinanza magari con vari scamotaggi riescono a deludere appunto quello che è loro effettivo reddito e quindi a togliere risorse a chi magari ne avrebbero la necessità di poterlo percepire. Cosa ne pensi del reddito di cittadinanza e dei provvedimenti che lo Stato si sta accendendo a prendere? Io direi che il reddito di cittadinanza sia una cosa giusta ma bisogna rivedere un po' il tutto nel senso che non bisogna darlo a tutti, bisogna darlo veramente alle persone che ne hanno bisogno.